quando quando hai un disturbo diciamo della tua tranquillità tendi anche molto a sentirti da solo nonostante ci siano un sacco di persone che ti vogliono bere attorno a te che ti vogliono aiutare e quindi è giusto lavorare su se stesse affinché possiamo vivere tranquillamente la nostra vita e poi ovviamente ci saranno sempre persone che diranno ma che ragioni hai tu per andare ad avere attacchi di panico attacchi di ansia io mi sono sentita dire queste parole come se un disturbo sceglie se la persona che va ad attaccare ovviamente ci sono delle cose molto più molto più profonde e ovviamente mi sento molto fortunata nella vita che ho ma questo non vuol dire che appunto la persona non possa avere dell'ansia o insomma un altro disturbo diciamo della sua tranquillità mentale motivo per cui bisognerebbe smettere infatti di sembra una frase fatta giudicare i libri dalle copertine no ti senti completamente schiacciato da un peso che hai addosso e è giusto che le persone sappiano che non sono sole in questa cosa e che se ne può uscire e se si prende anche in tempo il percorso è anche più corto